Ben trovati e ben trovate da Andrea Cartotto. Un altro videocorso veramente trasversale, cioè adatto a tutti, strizza l'occhio sin dai docenti e da lunni più piccoli, penso alla scuola dell'infanzia, sino ad ordini e gradi di istruzioni naturalmente superiori. Perché a tutti noi può servire a portare una veloce modifica ad una foto, magari interamente online, magari con facilità, oppure creare un accattivante collage di immagini, una composizione che è quello che vedremo quest'oggi con la risorsa FOTOR, F iniziale, R finale, un altro dei miei sempreverde, cioè delle risorse che io considero cavalli di battaglia nei corsi in presenza che da anni tengo con piacere agli amici e colleghi appunto di ogni ordine e grado. Allora, sito di riferimento www.fotor.com. Chi ha pazienza tra noi vedrà che se io scorro sino in fondo il sito di FOTOR, ho la possibilità alla voce Platforms di cliccare, scegliendo il sistema operativo più consono e scaricare, per lavorare magari offline, sul mio computer con sistema operativo Windows, su computer Mac, oppure scegliendo l'applicazione mobile per Android e iOS, quindi il sistema operativo di Apple, la versione di FOTOR. Però vi dico, è così comodo lavorare online, oltre che essere multipiattaforma, che sfrutterei questa opportunità. Allora, io clicco proprio su Make a Collage, tasto al centro e vi mostro con grande facilità come andiamo a comporre una cartolina artistica e faccio felici in questo caso i colleghi di Arte Immagine e di Storia dell'Arte perché creeremo una cartolina con alcune tra le opere più significative della pittorica di Van Gogh. Guardate, tra i collage mi chiede quale tipologia scegliere, c'è il collage classico, il collage artistico, il funky collage che io penso ad esempio per i bambini o per i ragazzi, insomma per la fine dell'anno ora dei nostri allievi, e il photo stitching che invece prevede l'inserimento di immagini più lunghe, panoramiche. Prendiamoci l'artistic collage, clic, breve caricamento, qua vedete che c'è la traduzione ipotetica di Google Chrome, ma io ho cliccato sulla X, non ci interessa. Allora, Photore è una risorsa freemium, la gran parte delle funzionalità sono gratuite, solo talune funzionalità sono a pagamento e alla domanda Andrea, ma come le riconosco, io rispondo, beh, guardiamo intanto dove sia presente il simbolo del diamante, queste sono funzionalità a pagamento. Inoltre in alto, questo numero che vedo, è quello delle proporzioni della nostra cartolina, o comunque del nostro collage, 4 terzi è quello per capirci un pochino più quadrato e mi sento di consigliarvelo. Vado a prendere questo modello Spring che andremo completamente a smontare, e guardate con che facilità. Allora, intanto un clic su rosa, perché rosa può non essere un colore consono, scegliamo magari un colore più scuro, una tonalità differente, nei dipinti che io ho precedentemente scaricato in formato immagine, relativi appunto a Van Gogh, ho immagini sui toni del giallo e del blu, pensiamo ai girasoli, ai campi di grano, eccetera, ed allora, insomma, rosa mi sembra che stoni, per cui io clicco sul mio quadrato rosa, poi clicco sul mio più, e vado, spostando il pallino sulla tavolozza, a scegliere un colore che mi sia, diciamo, confacente. Inoltre, sempre tramite il pallino, posso anche scegliere la tonalità. Fermo restando che è evidente come il blu mi piaccia, per cui l'ho scelto anche di gusto, però vedete che io ho cliccato sul mio colore, faccio un clic poi fuori, cioè a vuoto, e il colore dello sfondo di questo blocco è cambiato in un attimo. Mi permetto di consigliarvi anche la visione del videocorso su Canva, con la N, che trovate sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Pensiamo ora al testo, no Spring, ma Van Gogh, per cui io clicco su Spring, posiziono il mio cursore, cancello lettera per lettera, vado ad inserire Van Gogh, qualora il testo risultasse troppo grande, posso o agire con queste, che sono le maniglie di ridimensionamento, oppure in alto, dove c'è il 172, cliccare e scegliere un corpo del testo, c'è un font un pochino più piccolo, ecco, diciamo che 144 va meglio, poi tasto sinistro premuto su Van Gogh e perfeziono il suo allineamento, inoltre clicco anche in questa seconda casella di testo, vedete com'è semplice, clicco per avere il cursore, poi cancello un pochettino tutto ciò che mi serve. Ad esempio, Photor è eccezionale anche per la comunicazione, è di web marketing, cioè vedete quando una risorsa è trasversale, quanti sbocchi può avere. Allora lì vado a specificare meglio, selezione di opere, qualora questa cartolina fosse a firma del docente o dell'alunno, io potrei inserire il nome ad esempio nel terzo box, nella terza casella di testo, qui in basso, clicco, sempre posiziono il mio cursore, piano piano, cancello lettera per lettera, in questo caso, dai, è firmata da me, Andrea cartotto. Ora, il testo e il box sono pronti, resta da importare dal mio computer, perché le devo avere scaricate prima le immagini di mio gusto, da dove le prendo le immagini, le immagini le prendo da qui. In alto a destra, import, simbolo del più. Io clicco, ho la possibilità naturalmente, eccole qua, di scegliere le immagini da me desiderate, se voglio selezionarle tutte insieme, tengo premuto il tasto CTRL sulla tastiera e faccio un clic sui girasoli, poi un clic ancora sulla seconda opera, un clic ancora sulla terza opera, mi fermo, clic su apri e le immagini si dispongono qui a destra in colonna in attesa di caricamento. Come le posizionerò sulla mia cartolina? Con un semplice trascinamento. Allora, guardate, intanto vi mostro, ho fatto un clic a vuoto, che le immagini si sono pressoché caricate, tasto sinistro premuto, guardate la facilità, hopla, tasto sinistro premuto, l'esposto nel riquadro desiderato e la mia cartolina è pronta. Tra l'altro, foto, era una risorsa professionale e curata, non ha una filigrana o una firma, che non è certamente una vergogna, però stona un pochino su alcuni lavori. Sa di, come dire, talvolta, ecco, di filigrana, di firma, magari apposta perché non sapendo quale risorsa usare ne ho preso una così a caso. Invece selezionare le risorse digitali è ulteriore sinonimo di competenza digitale. Occhio per noi, ma anche per gli allievi. Ecco, però, nei girasoli se ne vede solo un pezzo. Posso riposizionare l'opera? Sì. Io vado a fare un doppio clic sui girasoli e con il tasto sinistro premuto inquadro meglio il particolare che desidero. Addirittura in alto potrei applicare un ingrandimento, cioè uno zoom. Clic su apply, che applica, e ho terminato il mio lavoro. Semplice, efficace, pronto all'uso. Non ci resta però, quindi ci resta, perdonatemi, appunto lo scaricamento. Ecco, non ci resta che scaricare. Come faccio? In alto vediamo che in questa barra degli strumenti essenziali, ad esempio undo, che poi è undo, freccia di curva verso sinistra. Quello è la nulla se io voglio tornare un passo indietro. Così come il redo, freccia di curva verso destra, e il ripristina per andare un passo in avanti. Clicco su save, icona a forma di dischetto, e qui, in questa fase, ecco, almeno per il download io mi dovrò gratuitamente, brevemente registrare. D'accordo? Il sign up della prima volta o il sign in del secondo accesso. Allora, intanto diamo il nome al nostro lavoro, per cui cartolina Van Gogh, e come ho detto in altri videocorsi, per una maggiore qualità visiva ed eventualmente di stampa tra jpeg, formato immagine, e png. Altro formato immagine, suggerisco di preferire il png. C'è anche la possibilità di fare lo scaricamento in pdf, ma a quel punto diventa un file o una scheda. La qualità alta, high, va bene. In realtà, cliccando su questa tendina avrei anche una qualità normal, ma teniamo pure quella alta, il peso non sarà elevato. Clicco su sign in to download. Ecco, vi faccio vedere, poniamo che sia la nostra prima registrazione, che possiamo andare a cliccare su sign up. È sufficiente un account personale Gmail o anche un account scolastico Google Suite o un qualsiasi indirizzo email. Allora, diamo un pochettino. Io metto uno dei miei account, per esempio, della Google suite, per cui andrea.cartotto. Poi vado a completare il mio indirizzo, vado ad inserire la password di riferimento. Vedete che in realtà in questo caso mi dice che sono già registrato con questo account scolastico. Ecco, allora vediamo un pochettino. Io vado su sign in, non più sign up. Lascio l'indirizzo in alto, metto la mia bella password, clicco su sign in, vediamo un pochettino. In realtà non c'è nulla di preparato nei miei videocorsi, perché io ho sempre il desiderio che arrivi a tutti noi. Insomma, io voglio condividere queste buone pratiche, la spontaneità del gesto e anche come superare o come gestire alcune situazioni. Ecco, vedete, siamo pronti a scaricare cartolina van gogh.png, il formato corretto è il png, io clicco su salva e veramente in un attimo, ora clicco sulla x perché la procedura è terminata, qui in basso a destra, scusatemi in basso a sinistra, sotto il mio volto, cartolina van gogh.png, ecco che ho scaricato nel mio browser, nella cartellina dei download, questa cartolina. Se io faccio un click, tanto per vedere il prodotto finito, ecco che l'ho riaperta. Pronta, comoda, ovviamente perfettibile, ma lascio sempre a voi la prova pratica su strada, perché questa è una immagine comunissima in formato png, posso decidere di conservarla così com'è, stamparla o, ancora meglio, inserirla all'interno di ulteriori risorse ed attività didattiche. Penso ad esempio, soprattutto in questa fase dell'anno scolastico, ad una bella presentazione fatta con LibreOffice Impress, con Google Presentazioni o eventualmente con Microsoft PowerPoint. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto, mi farà sempre sapere cosa ne pensate e come state utilizzando questa risorsa, vi do già appuntamento al prossimo videocorso.